Ciao a tutti, come capire se il tuo partner è manipolatore o manipolatrice? Allora ci sono alcuni tratti caratteristici che bisogna imparare a osservare che ci indicano che abbiamo a che fare con un partner manipolativo, manipolatorio. Intanto, prima cosa, tende spesso a recitare la parte della vittima. Tutto il mondo ce l'ha con lui, anche tu talvolta ce l'hai con lui. Comunque, tutte le persone in qualche modo sono contro di lui. Per cui, in realtà, si sente oppresso, insomma. Quindi mette in atto questi meccanismi paranoici. Poi cerca di isolarti, cerca di toglierti dalle tue amicizie, cerca di far sì che gli altri abbiano sempre qualcosa di sbagliato. Quindi crea una sorta di isolamento. Nel rapporto con le altre persone, in realtà, noti che semina un po' zizzagni. È una persona che tende, appunto, a seminare zizzagni, a seminare il malcontento, a parlare male di uno, a parlare male dell'altro. Tende proprio, anche proprio, a parlare male delle altre persone. E poi reagisce sempre in modo eccessivo. Reagisce in modo eccessivo quando succede qualcosa, estremizza le cose. Anche una piccola cosa la ingigantisce, la fa diventare delle reazioni spropositate, diciamo, rispetto agli eventi che si manifestano veramente, delle reazioni spropositate. E questo fa sì che spesso tenda a farti vivere il senso di colpa, perché vuole presentarsi come l'agnello sacrificale, insomma, quello che fa tutto e ha queste reazioni veramente, veramente spropositate rispetto ai fatti. E poi manifesta delle gelosie, possessività, cioè sono persone veramente gelose, possessive, che cercano di avere il controllo, proprio di controllarti in qualche modo. Ecco, questi sono i segreti da osservare, da capire, che è una persona, che ha a che fare con un partner manipolativo o manipolatorio. Se capisci questo, il suggerimento è cerca di togliertelo dai piedi al più presto, perché sono persone estremamente negative. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti a questo canale YouTube e anche al mio nuovo canale di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!